Si è svolto al Palasetta Livatino di Canicati il primo triangolare Memoria al Totò Contino di Calcio A5 che ha visto la partecipazione delle società Agragas e Fuzzale di Serie B. Canicati 5 allenato da Jack Giardina, neopromosso in C1 e Fulgentissima Naro del presidente Lillo Terranova, squadra neopromossa in C2. Erano presenti a questa manifestazione i familiari del compianto Totò Contino, il presidente della FGC di Agrigento Stefano Valenti e il presidente dell'AIA della sezione agrigentina Gero Drago. Il Memoria l'è stato vinto dal Canicati Fuzzale di recente promosso nel prossimo torneo di C1 di Calcio A5 e semifinalista di Coppa Sicilia. Questi risultati, Fulgentissima Naro-Agragas 2-6, Naro-Fuzzale-Canicati 1-5, Agragas-Fuzzale-Canicati 6-8, per cui la classifica finale è stata questa. Primo posto per il Fuzzale-Canicati, secondo per l'Agragas-Fuzzale e il terzo per Fulgentissima Naro. Intanto il Canicati 5 incontrerà in semifinale di Coppa Sicilia il Canicatini-Bagni. È stato effettuato il sorteggio della Lega che vedrà di fronte i canicatinesi di Mr. Jack Giardina e Siracusani. La gara di andata si terrà al Parasport 7 Livatino sabato 11 maggio, il ritorno in trasferta a Canicatini-Bagni nel Siracusano il 18 maggio. L'altra semifinale sarà giocata domani e vedrà di fronte Sant'Antonino-Barcellona-Pozzo di Gotto e Quiglias-P5-Palermo con il ritorno martedì 15 maggio. La finalissima si terrà invece il 25 maggio, ma ancora non è stata stabilita la sede.